Ai tempi della pedonalizzazione si voleva fare di via Dante una sorta di giardino pubblico sviluppato in lunghezza ma giardino nella terraferma veneziana troppo spesso è diventato sinonimo di degrado così come nell'altra viso di Gentilini dal lungo percorso ciclabile sono scomparse le panchine Noi siamo solo che contenti, adesso stiamo a vedere il risultato insomma ma se li tolgono anche in altre zone, sì sì, perché era diventato un problema qua soprattutto ad alcune ore ma anche la mattina, passando in vari orari Sì che si è degrado, sì, perché non trovo giusto che siamo arrivati a questo livello qua Secondo lei togliere le panchine risolve il problema? Non risolve il problema, giardino in maniera diversa, no? Vero? Atreviso se stai criticando è perché ha tolto le panchine, però qualcosa è che migliora Speriamo di sì, che si sia concluso qualcosa perché era una vergogna perché era diventato dormitorio e anche più la gente che rimane là seduta, gente non per bene insomma E se gran parte della popolazione applaude c'è anche chi nota come il problema più che risolto sia stato semplicemente spostato Secondo me erano utili, si potevano anche lasciare Non pensa che si risolvano così i problemi? No, 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 il degrado secondo me è dato da altri fattori Forse ci vorrebbero più controlli di polizia magari Ma le panchine secondo me non danno facile Anche perché c'erano anche anziani, i bambini Cioè io quando portavo i miei figli all'asilo qui spesse volte le utilizzavamo Se li tolgono dove puoi sedersi per riposarsi un'oretta quando hai libero, quando lavori Secondo lei basta togliere le panchine, bisognerebbe fare anche qualcos'altro? Vorrebbe più sorveglianza, che non c'è Perché spacciano in bicicletta, hanno i sediolini così come per i bambini di dietro E si scambiano tutto il giorno, così, pomeriggio, gran parte del pomeriggio Sì, beh, sono anche qui dietro sull'erba, distesi, cioè li trovi dappertutto Non penso sia il problema delle panchine